Buongiorno e bentrovati in questa prima edizione del TG6. Iniziamo subito con la cronaca, in particolare la cronaca giudiziaria, perché questa mattina si è tenuta una udienza nell'ambito del procedimento sui tetti di spesa delle cliniche private per l'anno 2010, ebbene la decisione è arrivata poco fa, il giudice per l'udienza preliminare Gianluca Sarandrea ha rinviato a giudizio tutti e cinque gli imputati, tra questi Gianni Chiodi l'ex presidente della regione, l'unico che era presente, l'unico tra i cinque ad essere presente stamani nel corso dell'udienza, tra gli altri ci sono anche l'ex subcommissario alla Sanità Giovanna Baraldi e l'ex assessore regionale Lanfranco Venturoni, però per i dettagli ascoltiamo e vediamo il servizio confezionato da Alfredo Primante. Rinvio a giudizio con l'udienza fissata al 6 di dicembre davanti al Tribunale di Pescara per l'ex governatore abruzzese Gianni Chiodi, l'ex subcommissario alla Sanità Giovanni Baraldi, l'ex assessore regionale Lanfranco Venturoni e due tecnici dell'Agenzia Nazionale per i servizi regionali. Questa è la decisione del GUP del Tribunale di Pescaraggio e Luca Sarandrea nell'ambito del procedimento sui tetti di spesa delle cliniche private per l'anno 2010. Nel mirino della procura c'è il ridimensionamento dei tetti di spesa, secondo l'accusa Chiodi coinvolto in qualità di ex commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanità, avrebbe fatto firmare alle cliniche private contratti di prestazione di assistenza ospedaliera collegando la firma al pagamento dei crediti che le cliniche vantavano nei confronti della regione. Secondo l'accusa l'ex presidente avrebbe fatto pressioni sulle cliniche private per far firmare quei contratti e avrebbe tenuto un generale atteggiamento ostruzionistico volto a non fornire i dati per procedere all'attuazione della metodologia utilizzata per realizzare i tetti di spesa. Le accuse a vario titolo sono falso, violenza privata e abuso d'ufficio. Com'è andata l'udienza? Dalla prospettiva della parte civile direi benissimo, nel senso che è stato disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati e per tutti i capi di imputazione. Ritenevamo inevitabile e imprescindibile una verifica dibattimentale, questa non è una pronuncia di condanna, è il rinvio a giudizio degli imputati. Nel dibattimento avremo modo di dimostrare che quello che abbiamo denunciato, dedotto e argomentato in sede dell'udienza preliminare e a nostro avviso anche più che sufficiente per fondare la responsabilità degli imputati. Lei si sente tranquillo rispetto anche al suo operato? Sì, su questo tranquillissimo, io mi sento fiero di quello che ho fatto, ho moralizzato un sistema, ho fatto sì che ci fossero i contratti, in Abruzzo non c'erano i contratti, regavamo 200 milioni di Euro, la sanità privata senza un contratto ed era un fornitore, mentre invece per tutti gli altri, per qualunque cosa c'è bisogno di un contratto. La legge prevedeva che ci fossero e ho voluto che ci fossero, i contratti regolano non solo i budget, ma regolano anche i controlli, regolano tutto e quindi era necessario che ci fossero. Certo non erano abituati a vederli, contavano sul fatto che non ci fossero, perché ciò avrebbe facilitato moltissimo tutte le loro possibilità speculative in senso economico, quindi con nessuna accezione negativa. Ho ridotto il budget della sanità privata, ho risanato la sanità, credo di aver fatto anche pubblica, ha chiuso ospedali e nel frattempo sono aumentati anche i livelli essenziali di assistenza. Trovarsi imputato per questo non fa bene, però io ritengo che mi dia la possibilità anche grazie a queste interviste, magari a trarne una considerazione personale che magari nei momenti in cui facevo queste cose non mi veniva riconosciuta, forse adesso mi viene riconosciuta dagli abruzzesi. Ancora la cronaca, i militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Pescara hanno smantellato una rete di spaccio di droga della città gestita da africani. 15 le persone finite nella rete delle fiamme gialle. Paolo Renzetti. Un'organizzazione composta da extracomunitari di nazionalità africana che si era specializzata nello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro della città di Pescara è stata smantellata dai finanzieri del comando provinciale che all'alba di oggi, anche con l'ausilio di unità cinofile, hanno eseguito 15 ordinanze di misura cautelare personale nei confronti di altre tante persone. Nel corso delle indagini sequestrati 4,5 kg di droga. La portata per noi è molto significativa, va al di là del semplice risultato investigativo che poi speriamo si traduca anche in risultato giudiziario. Parliamo di 15 ordinanze nei confronti di soggetti tutti extracomunitari presenti sul territorio pescarese. In questo la rilevanza va oltre il numero investigativo, ci preme dare evidenza del fatto che le istituzioni ci sono a tutti i livelli, prefettura, autorità giudiziarie, forze di polizia e guardia di finanza, sono particolarmente attenti al contesto attuale. La presenza di extracomunitari sul territorio è attenzionata e laddove si orientano a delinquere noi siamo presenti. I cittadini abbiano fiducia nello Stato, le istituzioni sono pronte a rispondere alle esigenze di sicurezza del territorio e dei cittadini. Non è la prima operazione, non sarà l'ultima. Ricorderete che già qualche mese fa, sempre nei confronti di questo target di soggetti, abbiamo condotto l'operazione Bazar a dimostrazione dell'attenzione di settore. La tecnica era quella di avere addosso una quantitativa di sostanza minimo che era tipico dell'assunzione personale, in modo tale che laddove i soggetti venivano perquisiti non avevano le condizioni per essere accusati di spaccio. Preparavano in sostanza la loro giornata lavorativa, nascondendola in cestini della spazzatura o dietro panchine e all'occorrenza se ne andavano a rifornire. Prosegue intensa in provincia di Teramo l'attività interforze nella lotta all'abusivismo commerciale e a contraffazione dei marchi sulle spiagge. Ieri ancora un controllo, in particolare ad Alba Adriatica, poliziotti finanzieri e agenti della Polizia Municipale hanno rastrellato le zone della stazione ferroviaria, fermate autobus Pineta e alcuni tratti di spiaggia. Dieci cittadini extracomunitari sono stati bloccati nei confronti di tre di loro. È scattata la denuncia perché cercavano di vendere delle borse griffate, ovviamente false. I rimanenti sono stati contravvenzionati. Molta la merce sequestrata, oltre alle borse false, indumenti, occhiali ed altri articoli, i servizi avviati dai primi di luglio proseguiranno fino alla fine della stagione estiva. Cambiamo pagina, si è riunita ieri a Civitella del Tronto, in provincia di Teramo, la Commissione Nazionale per le Politiche Agricole. Per l'Abruzzo stanziati ulteriori 46 milioni di euro per fronteggiare le emergenze dovute agli eventi calamitosi del 2016 e del 2017. Lo ha annunciato l'assessore regionale Dino Pepe. Siamo a Civitella del Tronto, luogo simbolo delle emergenze 2016 e 2017, terremoto, neve, mancanza di energia elettrica. Abbiamo l'onore di ospitare la Commissione Politiche Agricole Nazionali con il coordinatore e l'assessore di gioia della Regione Puglia e tanti altri colleghi che hanno voluto con forza questo appuntamento qui a Civitella del Tronto. Si presenterà il fondo di solidarietà, 300 milioni di euro a disposizione delle quattro regioni colpite, Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio. Sono a disposizione queste risorse per cercare di sostenere con forza le aziende agricole colpite dalle varie emergenze. L'Abruzzo avrà a disposizione 46 milioni di euro aggiuntivi al piano di sviluppo rurale, quindi avremo sostanzialmente 480 milioni da destinare alla nostra regione in maniera particolare alle aree colpite dal terremoto. Tutte le regioni italiane hanno devoluto una parte del proprio piano di sviluppo rurale, lo hanno fatto sapendo che alle regioni interessate dal sisma ripartire l'agricoltura sarebbe stato molto utile. È un fatto particolare che le regioni in campo agricolo riescano a fare questo tipo di attività, ma credo che per noi sia un segnale importante tra proporre anche ad altri, proprio perché si riesce con mutualità, non con uno strumento che ha questa funzione, ma con mutualità inventata proprio sul PSR, a ripartire proprio dal settore primario, quindi dall'agricoltura. Stiamo lavorando di inteso ovviamente con il governo, sapendo che il tema della siccità richiede un impegno pluriennale e non solo quelle che sono le misure di breve periodo. Lo si fa con la consapevolezza che nei prossimi anni avremo sempre più a che fare con questo tema. C'è bisogno di investimenti, c'è bisogno di un razionale utilizzo dell'acqua, c'è bisogno di solidarietà anche lì tra le regioni, che spesso sono nella condizione di aiutare le regioni che sono semmai vicine o che hanno caratteristiche differenti, quindi con un meccanismo che porti però anche poi al ristoro dei danni, perché non si può lasciare sui nostri agricoltori tutto il peso di una mancata programmazione semmai nel tempo o della difficile questione climatica che poi in questo periodo sta diventando molto acuta. Nel prossimo servizio ci spostiamo all'Aquila e parliamo di Leonardo, il nuovo stabilimento di avanguardia e innovazione. Il Polo Aquilano sarà un riferimento per il resto del mondo, l'azienda ha scelto di restare dopo il terremoto. Il servizio di Daniela Rosone. All'Aquila arriva Leonardo, 4.500 metri quadri per 140 dipendenti. Nella regione Abruzzo questa società è già presente in realtà con altri due centri di eccellenza a livello internazionale, quello di Chieti dedicato alla Cyber Security e centro spaziale del Fucino di Telespazio per un totale di circa 850 dipendenti. Dopo il terremoto del 2009 l'azienda è intervenuta mettendo in sicurezza gli edifici gravemente danneggiati del vecchio stabilimento, ricollocando temporaneamente i dipendenti all'interno del Tecnopolo Aquilano. Quest'operazione ha consentito di tutelare i posti di lavoro, mantenere attiva la produzione, garantire gli impegni con clienti e fornitori. Leonardo ha poi acquisito le aree industriali, completando la realizzazione dei nuovi stabilimenti e della mensa per il personale. Il nuovo sito è realizzato in parte con fondi dell'azienda e in parte con fondi comunitari, tramite un bando regionale. È costato circa 8 milioni di euro. Le attività sviluppate nel nuovo stabilimento riguardano la progettazione e la certificazione di sistemi di identificazione installati a bordo di aerei, sia militari che civili, e di apparati per le comunicazioni avioniche. Credo che in un mondo come questo, che è caratterizzato oggi da profonda insicurezza, è evidente che l'industria della difesa ha assunto un ruolo, un'importanza particolare e maggiore di quella del passato, in particolare è la parte tecnologica. Quindi è un'industria a cui il mondo della difesa si rivolge, ma si rivolge anche stante i pericoli che fanno parte del nostro mondo. Leonardo, nel campo dell'identificazione, è un leader europeo, con significativi contratti acquisiti in numerosi paesi, tra cui Italia, Regno Unito, Svezia e Giappone. Le prospettive di mercato sono importanti entro il 2020. Infatti, tutte le nazioni della Nato dovranno adeguare i propri sistemi di identificazione al più recente standard tecnologico degli apparati sviluppati da Leonardo all'Aquila. È un bellissimo segno di una rinascita che non si ferma qui per la verità, perché ho visto ancora una selva di gru arrivando, vengo spesso per la verità, quindi non è che l'ho visti con meraviglia e sorpresa, ma vedo che dopo qualche anno di polemiche di stasi, l'Aquila ha ripreso a camminare, anzi a volare. E questa inaugurazione di oggi è un segno che al di là della ricostruzione delle case, dei monumenti, delle chiese, bisogna ricostruire quel tessuto produttivo che ridia slancio e vitalità all'economia dell'Aquila e della zona. E a Monte Silvano completata la giunta guidata dal sindaco Francesco Maragno con l'ingresso di Manola Musa, alla quale verranno conferite le deleghe all'urbanistica e alle politiche sociali e il ritorno di Paolo Cilli, che si occuperà del settore delle manutenzioni, dei servizi e dell'igiene urbana. Siamo stati eletti per amministrare nell'interesse della collettività, ha affermato il primo cittadino Francesco Maragno. Abbiamo deciso per questo di condividere punti programmatici che consentono alla città di godere di un'azione di governo proficua. Con la rinnovata unione del centro-destra, aggiunge il capogruppo di hashtag Monte Silvano 2019, Antony Agliano, ognuno di noi potrà dimostrare di aver meritato la fiducia conferitaci nella scorsa tornata elettorale. Superando ogni incomprensione faremo fronte comune contro illegalità e degrado per garantire sicurezza e migliorare la qualità della vita della nostra comunità. Al posto di Manola Musa entra in consiglio comunale Aurelio Cilli. Andiamo avanti a Cagnano Amiterno, in provincia dell'Aquila. C'è preoccupazione per le sorti del cementificio che potrebbe bruciare i rifiuti. Non esiste un piano industriale, soprattutto ci saranno problemi per la salute, questo si chiede alla popolazione. A Cagnano Amiterno c'è molta preoccupazione nella popolazione e nelle famiglie dei lavoratori del cementificio Sacci. Esiste una legge regionale, infatti, che autorizza i cementifici a bruciare nei loro forni i CSS, combustibile solido secondario, cioè di fatto rifiuti solidi urbani. Questo a Cagnano non accade ancora, ma solo perché va adeguato il forno, ma le remore della popolazione sono diverse. Ci si deve adeguare al mercato e alla concorrenza, ma il lavoro sarà salvaguardato comunque? E la salute? La Regione nel 2015 ha già autorizzato di fatto questa attività, fino al 2027, la prima stortura, perché una legge dice chiaramente che dal 2020 non si potranno più bruciare rifiuti. La Regione poi ha un piano industriale ben definito? Quanti rifiuti potranno bruciare in relazione alla quantità di cemento prodotta? Che rapporto c'è tra i rifiuti e il prodotto per i quali i cementifici esistono. I cementifici non sono inceneritori e loro dicono giustamente che non vogliono trasformarli in inceneritori e stiamo d'accordo. Però noi non abbiamo nessun dato, non abbiamo dati che ci tranquillizzano, che tranquillizzano la popolazione e neanche le famiglie dei lavoratori, però i lavoratori vedono anche lo spettro, il ricatto del licenziamento, non ci saranno più posti di lavoro. Già da adesso sta succedendo questa cosa, perché i lavoratori che sono andati in pensione non sono stati reintegrati alla cementeria. E inoltre c'è un problema di salute. Altre Regioni hanno evidenziato già l'aumento dell'incidenza dei tumori nella popolazione, ma questo non lo ha fatto la Regione Abruzzo e non lo farà, non avendo un registro tumori per mancanza di fondi. La paura è che si voglia far passare tutto sotto silenzio. Del resto l'autorizzazione regionale c'è dal 2015, ma soltanto ora se ne parla. Per quanto riguarda la Regione Abruzzo noi abbiamo dei problemi. Non funziona il registro tumori. La Regione Abruzzo ha una carenza cronica dei fondi per un registro tumori esaustivo e ben documentato. Abbiamo interesse a fare in modo che la nostra valle sia bella, pulita, il polmone verde d'Europa, le dicono di tutti i colori. E poi dopo cosa facciamo? Inquiniamo. Un'altra cosa molto importante è dove prenderanno l'acqua? Che il fiume eterno è in secca. Dove prenderanno l'acqua per questo forno? Perché c'è bisogno di tanta acqua. Dove la prendono? Il fiume eterno è in secca. Sono pensieri che noi facciamo, però forse è opportuno ragionarci un po' meglio. Chiuso nel centro di Spoltore, un tratto di 400 metri della strada provinciale 16 bis a causa della rottura di una condotta del gas. Il tubo è stato danneggiato durante i lavori di installazione della fibra ottica. L'erogazione del gas è stata interrotta e la strada chiusa per consentire ai tecnici di cercare di individuare il punto della rottura e poi procedere al ripristino. Sul posto ci sono i tecnici di Enel Gas, quelli della provincia e la polizia locale che si occupa della viabilità. Per chi viaggia in direzione di Pescara è possibile percorrere via Di Marzio, mentre chi si sposta verso Spoltore deve passare da via Prati. E poi ancora domani, venerdì 28 luglio, causa la necessità urgente di sostituire alcune saracinesche della condotta idrica denominata Vecchio Tavo di via Valle Furci a Pescara. Si rende necessaria la sospensione temporanea della fornitura idrica in alcune vie della città di Pescara. Via Colle Caprino, via Valle Furci, strada Valle Ferzetti, strada vicinale Valle Ferzetti, lo comunicano Comune di Pescara e H. La sospensione della fornitura idrica comincerà alle 8.30 con durata presumibile fino alle ore 16, salvo complicazioni in fase di realizzazione dei lavori. Inoltre non si possono escludere cali di pressione su altre vie adiacenti. Cambiamo ora argomento. È stata presentata stamani la 17esima edizione dei Muri raccontano i giochi di una volta. In programma in questo fine settimana, il 29 e 30 luglio, ad Azzinano, località nel Comune di Tossicia. Quali sono le novità di questa 17esima edizione? Anche quest'anno c'è la realizzazione di due nuovi murales, ci sono gli artisti Franco Mora e Salvo Caramagno e in più abbiamo iniziato una collaborazione, perché crediamo nella collaborazione fra associazioni, abbiamo iniziato una collaborazione con l'associazione Trucioli in Arte di Torricella che realizzerà un'infiorata ad Azzinano con un tema dei giochi di una volta. In più quest'anno intendiamo promuovere in maniera più consistente quello che stiamo facendo già da anni, cioè la raccolta dei fiori di lavanda. Facciamo dei sacchettini che sono stati lavorati, cuciti, ricamati a mano dalle signore del paese durante l'inverno e ovviamente le venderemo per autofinanziamento, per finanziare le nostre attività. Malgrado l'andamento di un'annata molto particolare, non è mancata la forza da parte degli abitanti di Azzinano con il supporto dell'amministrazione comunale del BIM di realizzare anche quest'anno due murales. Molte sono le iniziative che la Proloquo porta avanti anche durante l'anno. Negli ultimi periodi c'è stata la collaborazione con il MIBACT in una manifestazione a Roma che ha coinvolto i borghi autentici d'Italia e a breve ci sarà una convenzione tra il MIUR, la Regione Abruzzo, la Proloquo di Azzinano e il Comune di Tossicia affinché questo borgo sia sempre più visitato dalle scolaresche che inseriranno nei propri programmi didattici una visita a questo borgo dipinto. Ed ora apriamo la pagina ampia dello sport. Il Pescara deve accelerare con i movimenti in uscita in vista della partenza di dopodomani per la seconda fase del ritiro a Palena. Zeman vuole una rosa più snella per lavorare meglio e inserire qualche altro calciatore idoneo al suo progetto tecnico. Vediamo. Sabato inizierà la seconda parte del raduno del Pescara. La squadra si radunerà in mattinata al convitto casa d'annunzio per poi partire alla volta del centro del Sangro Aventino dove lavorerà fino a sabato 5 agosto quando il Delfino lascerà Palena ed il giorno dopo farà il debutto ufficiale stagionale all'Atletico Cornacchia per il secondo turno di Team Cup contro la vincente di Arezzo Triestina. Riecheggiano ancora le parole pronunciate due giorni fa da Zeman dopo l'amichevole col Teramo. Vorrei fossimo in 28 a Palena. Il numero è l'optimum del Boemo ma sarà difficile arrivarci. Resta comunque grande curiosità per capire se ci saranno degli esclusi nella lista di Palena e quali saranno. Anche perché è difficile che nelle prossime ore si materializzino cessioni ufficiali. Il lavorio però prosegue. L'Edian Memusciai è sempre nel Mirino del Sion e da giorni si attende l'affondo definitivo. La Sampdoria dopo aver mostrato interesse verso Benelì in un precedente summit potrebbe tornare alla carica. Il calciatore anglo-libico è uno dei pezzi pregiati in uscita e l'operazione con il club di Ferrero potrebbe essere più ampia qualora venga inserito anche il terzino Cristiano Biraghi che nei giorni scorsi era stato nuovamente accostato al Chievo. Sostanzialmente chiuso l'accordo con il Carpi per Davide Vittorini che approderà in terra emiliana con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Manca solo l'ufficialità. Come anche per la gestione alla Pro Vercelli dell'attaccante Alessandro Polidori così come prossimo anche la D ufficiale di Guglielmo Stendardo per cui si prospetta un'esperienza professionale in Qatar. Restano da definire anche le posizioni di Zampano, altro potenziale fiore all'occhiello sul fronte delle uscite, di Bovo che aspetta una chiamata dalla Serie A e Rossi. Uscite che oltre a sfoltire il gruppo libereranno posti per qualche altra entrata. A Palena inizierà a lavorare con i compagni Ugo Campagnaro, sfumato Roberto Insigne, il Pescara monitora le piste Massimiliano Gatto del Chievo e Carlos Embalo del Palermo. Per la difesa c'è un accordo di massima con l'ex capitano Antonio Balzano che freme per lasciare il Cagliari e tornerà a giocare in rival adriatico. Lega Pro, buone indicazioni per il Teramo, specie nel primo tempo dell'amichevole col Pescara di due giorni fa. Intanto la società biancorossa si sta muovendo per l'attaccante esterno ex Lumezzane Antonio Bacio Terracino. Domani amichevole alle 17 arrivi Sondoli contro la Fidelis Andria. Jacopo Forcella. Tre elementi, forse quattro. Il mercato del Teramo vira decisamente alla ricerca di alternative rispetto ad una formazione titolare che già nell'amichevole col Pescara ha destato una buona impressione. Mancherebbero sulla carta un centrocampista, un difensore che possa fare da centrale e da esterno destro e poi i ricambi dei due trequartisti che giocano dietro la prima punta. Soprattutto perché Mirko Petrella tra qualche giorno saluterà la truppa biancorossa per accasarsi, molto probabilmente alla Triestina. Il nome caldo è quello di Antonio Bacio Terracino, attaccante napoletano di 24 anni ex Lumezzane che il Teramo conosce bene. In questa stagione quattro volte la punta e il diavolo si sono incrociati e nelle due gare a Lumezzane, la prima di campionato e l'andata playoff, Bacio Terracino è anche andato a segno. Sarebbe l'ideale per giocare con Tullio Fratangelo dietro la prima punta. Già oggi potrebbe esserci un contatto visto che il calciatore è svincolato dopo la retrocessione dei Lombardi proprio nello spareggio col Teramo. Intanto Foggia e Fratangelo analizzano proprio gli equilibri offensivi dopo l'amichevole col Pescara aspettando quella di domani alle 17 arrivi Sondoli contro la Fidelis Andrea. Ma sì, insomma noi giochiamo con un tipo di gioco che appunto ci fa sfruttare le nostre qualità che abbiamo e comunque sì, il primo tempo siamo partiti ben aggressivi e infatti siamo riusciti a concludere il primo tempo in un bel pareggio. Abbiamo fatto un buon primo tempo, comunque il secondo tempo poi sono entrati molti giovani, però pure abbiamo mantenuto, anche il Pescara, anche loro, il secondo tempo hanno fatto entrare in giocatori importanti. Il risultato 3 a 1, siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Ogni anno mi pongo l'obiettivo di arrivare in doppia cifra, poi quello che vengono sono tutte in più. L'obiettivo principale è quello di fare un buon campionato col Teramo. Sono supportato da due o tre quartisti, diciamo, e quindi dovrebbero arrivare molte palle comunque per sfruttare e fare conto. Nessun incontro al momento, scendiamo in serie D. Per quanto riguarda l'Aquila Calcio, tra gli amministratori comunali e il gruppo che fa capo all'imprenditore Fioravanti e che sarebbe interessato a rilevare le quote societarie. Il presidente uscente Chiodi insiste che hanno dato tutte le garanzie. La tifoseria ormai è stanca e delusa, anche se dopo un giro fitto di telefonate l'incontro al momento slittato potrebbe avvenire nel corso del pomeriggio. Il servizio. Nessun incontro questa mattina a Palazzo Fibbioni per il salvataggio dell'Aquila Calcio. L'imprenditore romano Umberto Fioravanti ha fatto sapere all'assessore allo sport del comune Alessandro Piccinini che non avrebbe raggiunto l'Aquila. Fioravanti, che ha motivato la sua assenza negli ultimi giorni con problemi di lavoro all'estero, continua a ribadire che mancano alcuni documenti, su tutti il bilancio della società al 30 giugno. Documento che però ha chiarito il presidente Chiodi non può essere prodotto in questo periodo dell'anno, sebbene a nessuno sfugge che la tenuta contabile a fine mese sia obbligatoria per legge. Una trattativa lunghissima e destenuante che va avanti da febbraio e che ad oggi non ha prodotto nessun risultato tangibile, se non l'ira dei tifosi che, a questo punto, non sanno davvero a chi credere. Si adduce sempre la mancanza di documentazione, eppure Chiodi continua a dire di aver dato ai nuovi tutte le garanzie possibili riguardo l'accollo dei debiti delle passate stagioni. La nuova cordata, dall'altra parte, sostiene di non avere invece tutte le carte. Di fatto, l'unica certezza che c'è è che al momento non c'è la squadra. Non c'è la conferma di Battistini, non ci sono i tempi per poter aspettare ancora. Lo stesso Fioravanti ha evidenziato che qualora oggi arrivasse tutta la documentazione, comunque lui e gli altri tre soci avrebbero bisogno almeno di una settimana per vagliare il tutto. Sindaco e assessore sono intanto al lavoro, ma la credibilità qui si è persa da un pezzo. In casa Pineto, conferma per il tecnico Daniele Amaulo, l'allenatore ha come obiettivo quello di migliorare il risultato ottenuto nella scorsa stagione. Roberta Di Sante. Mister Amaulo, pronti per una nuova avventura? Una squadra quasi completamente rivoluzionata quest'anno? Sì, inizia la nuova stagione, che è una squadra praticamente nuova e quindi avremo bisogno di questo periodo di preparazione per trovare un po' l'equilibrio e l'assemblamento giusto per l'inizio del campionato. Partiamo con umiltà, con la consapevolezza che c'è da lavorare per cercare di fare meglio della passata stagione. Abbiamo dietro una società forte alle spalle che sicuramente ha fatto del tutto per mettere su una squadra competitiva e da parte nostra cercheremo di dare il massimo per questa società. Mister, si vi siete rinforzati sugli esterni, tanti ritocchi soprattutto al centro campo, una squadra, come dicevo, rivoluzionata. Adesso forse parlare di moduli è prematuro, però cercheremo di adattare la squadra a quelle che sono le caratteristiche di ognuno. Sì, adesso parlare di moduli è prematuro. Dobbiamo un attimo conoscerci bene tutti quanti, poi vedremo strada facendo qual è il modulo che si addice di più a questa squadra. In mente c'è qualcosa, però poi bisogna verificarlo sul campo e abbiamo questo periodo di preparazione per provare varie alternative, comprese le varie amichevoli, per trovare l'assetto e l'equilibrio giusto. Dare un giudizio adesso sul girone sembra prematuro, poi dopo, secondo il mio punto di vista, non è importante il girone per cui andremo a giocare. Sicuramente saranno tutti i gironi come è da sempre, in Serie D ci saranno i gironi di Serie D, sono i gironi equilibrati, bisogna interpretarli bene, a prescindere di chi è di fronte. C'è da giocare tutte le partite senza nessun risultato scontato, quindi a prescindere dal girone sicuramente ci sarà ogni domenica un equilibrio in campo e poi verrà interpretata bene ogni partita per far sì di raggiungere un obiettivo che uno si è prefissato. Conferma a Pineto, invece nuovo allenatore ad Avezzano, sempre in Serie D, il neotecnico è Umberto Marino che da qualche giorno dirige la squadra nel ritiro di Caramanico. Vediamo le sue aspettative. A distanza di due anni Umberto Marino torna ad allenare in Abruzzo, da Chieti ad Avezzano. Si parte nella Marsica con grandi ambizioni, preoccupato per le richieste della società e del presidente Paris? Ma è preoccupato, è una squadra che sulla carta è forte, ha ambizioni, ha possibilità di migliorare. Poi con il presidente siamo anche d'accordo che comunque bisogna guardarli questi ragazzi perché io in un primo momento comunque agito molto la società, in un secondo momento poi il presidente ci siamo confrontati e comunque il presidente ha detto che praticamente il ritiro va guardato anche un po' la situazione per capire come meglio far coesistere questi ragazzi. Tanti grandi giocatori ad Avezzano, è arrivato anche nelle ultime ore un altro giocatore che potrebbe fare la differenza nel prossimo torneo, Pellecchia. Sì, è un giocatore in cui io credo molto perché ha espresso le sue qualità al 10%, a dir tanto. Quindi spero di potergli dare qualcosa a livello mentale, a livello di fargli tirare tutto quello che ha fuori perché è veramente un giocatore che è stato uno spreco del calcio. Cosa ha spinto Umberto Marino ad accettare le proposte dell'Avezzano? Tra l'altro lei è stato per sette anni storico vice di Ivo Iaconi e dunque conosce bene la nostra regione, arriva in una piazza comunque importante e con un presidente esigente. Esigentissimo mi hanno detto, però io sono più esigente del presidente, lui lo sa. Lui mi chiama alle sette di mattina, io lo chiamo alle sette e cinque e siamo così tutti e due. C'è sintonia tra di noi, poi è normale che i risultati fanno la differenza, però comunque siamo due animali alla ricerca del miglioramento, del volere fare qualcosa in più degli altri. Questo lo può portare solo ad avere passione per il tuo lavoro, avere grande passione dentro e purtroppo la passione porta anche delle controindicazioni a volte. Marino, quest'anno ci sarà un motivo in più per cercare di far bene e di vincere, riavvicinare la curva all'Avezzano dopo i problemi che c'erano stati l'anno scorso e di cui lei ovviamente sarà a conoscenza. Sì, lo so che ci sono stati dei problemi tra la società e i tifosi, io spero che con l'impegno dei ragazzi si riesca a ricucire la cosa e far sì che questa gente ci dia una mano perché i tifosi sono fondamentali. È tutto per questa prima edizione del TG6, le prossime edizioni quelle delle ore 19 e delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.